Restano aperte le iscrizioni al corso base di formazione per allenatori di calcio del settore giovanile del CSI. L'adesione è molto alta e per ora si è arrivati a 70 iscritti. Il corso è strutturato in due cicli paralleli. Il primo si svolgerà a Chiuduno, con partenza venerdì 25 ottobre. Il secondo si terrà a Bergamo, dove si inizierà lunedì 28 ottobre. Il corso è fatto in 12 lezioni, sia una parte teorica, una parte che si svolge sui campi e in palestra quando ci sarà brutto tempo. Proprio per dare la possibilità agli allenatori di sperimentare sul campo alcuni esercizi che poi riporteranno all'interno delle proprie società, dei propri oratori. Per la parte tecnica ci si avvale dell'Atalanta, che dobbiamo ringraziare per la disponibilità del settore giovanile, del presidente dell'Atalanta, perché so che comunque ci tiene alla collaborazione con gli oratori. Il corso prevede un'alternanza di serate di natura tecnica a incontri di riflessione sul ruolo educativo dell'allenatore. È fondamentale sicuramente il rapporto con l'ufficio, con l'UPE, con l'ufficio degli oratori, perché questa attività di formazione la facciamo in strettissima collaborazione con loro, anche perché abbiamo l'ambizione un po' di trasferire non solo dalle competenze tecniche, ma anche il saper fare con i ragazzi, il saper stare in un gruppo, il saper si mettere a disposizione per quanto riguarda la sensibilità proprio dei ragazzi. Il corso si chiuderà venerdì 20 dicembre con l'ultima lezione e la consegna degli attestati. Ne proporremo nei mesi di febbraio-marzo, altri due dobbiamo ancora stabilire le sedi e faranno da apripista ai due livelli successivi, il corso tutoring di primo livello e il corso tutoring di secondo livello, che verranno proposti sul finire della stagione sportiva, indicativamente tra i mesi di marzo e maggio.